Di galoppo è il 5, in avanti Ruggiada SMS, a largo repetita RL, quindi in avanti Ruggiada, poi ripetita ancora Riccardo Zamora, poi allargo Renoir Rab, quindi Reni Vida, in avanti Ruggiada SMS, poi ripetita RL, ancora Riccardo Zamora, poi Romelius, allargo Renoir Rab, quindi Reni Vida, ancora lotto di Ritalis Gray, allargo Rob Mabble, Ruggiada SMS, in avanti controllo la situazione, dalle retrovie lo scatto di Rob Mabble, ma viene però parato da Reni Vida, e quindi in avanti Ruggiada SMS, rallentamento delle battistrade, allargo Reni Vida che viene via, quindi ripetita allargo Reni Vida, quindi Rob Mabble, Ruggiada SMS che ancora può fare i propri comodi, in avanti, quindi Rob Mabble allargo, l'attacco deciso di Ruggiada SMS, poi ripetita RL, ancora Reni Vida, in scia a Rob Mabble, Ruggiada SMS che controlla la situazione, quindi Ruggiada SMS al controllo su Rob Mabble, ripetita ancora Reni Vida, allargo di Riccardo Zamora, poi Renuà Rab, Ruggiada SMS che controlla la situazione, Rob Mabble, ancora Reni Vida, allargo di Riccardo Zamora, quindi Ritalis Gray che viene via, Ruggiada SMS che controlla, Rob Mabble allargo, poi allargo anche Ritalis Gray, quindi Ritalis Gray, allargo deciso, attacca a fondo sia Ruggiada SMS che Rob Mabble, ancora Repetita RL, lungo i birilli, in avanti Ruggiada SMS, Repetita che si libera dalla corda, cerca l'aggancio in avanti, proprio Repetita RL con Ruggiada SMS che replica in maniera piuttosto concreta, Ruggiada SMS che viene a vincere facilmente al secondo posto il numero 6 di Repetita, al terzo Riccardo Zamora, Vince senza problemi.